Fanculo a tutti ragazzi, oggi abbiamo il tutorial del pen spin numero 2 Si assomiglia molto al pen spin numero 1, solamente che la rotazione sarà doppia Andiamo a vedere il tutorial Questo è il tutorial del pen spin numero 2 Innanzitutto bisogna saper fare il pen spin numero 1 Quindi vi lascio il link qui Andate subito ad impararvi il pen spin numero 1 Però non tra indice e medio ma tra anulare e medio Quindi questo è il primo step, impararsi il pen spin numero 1 tra medio e anulare Per chi non sapesse come si fa il ricapitolo brevemente Abbiamo pollice che dà una spinta con la base E anulare e medio portano la matita in questa posizione E la fanno girare in modo circolare tra queste due falangi Quindi così, olè Questo è il pen spin numero 1 Per il pen spin numero 2 vedremo una doppia rotazione Quindi tra anulare e medio e tra medio e indice Così, olè Andiamo a vedere Allora abbiamo la penna che arriva in questa posizione Quando gira noi andremo a raccoglierla con l'indice Quindi arrivato in questa posizione l'indice si sposta in avanti La matita girerà Verrà pinzata tra indice anulare e medio Medio dietro Ok, così Quindi Quindi in questa posizione L'indice Farà Concluderà con il semi spin diciamo numero 1 Invece che fare tutta la rotazione fa soltanto la parte finale Ricapitoliamo Ovviamente la matita Se l'avrete a punta verso su Ve la ritroverete a punta verso giù Allora Anulare medio Primo giro Indice si sposta in avanti L'indice è difficile da far rallentatore Raccoglie insieme al medio E gira Ok Abbiamo Anulare medio Matita che gira Gira, gira Diamo il colpo Indice si sposta in avanti Raccoglie E gira Finale Quindi rivediamo Anulare Colpo Giro, giro, giro Indice E giro Finale Andiamo a rivedere l'ultima volta Anulare medio Colpo Giro Indice Raccoglie E giro finale Il giro finale viene dato con l'indice In modo come di chiusura del primo Come se ci trovassimo nel pen spin numero 1 qua E l'indice come potete vedere chiude Quindi farà questo movimento qua In modo circolare Rivediamo Anulare Colpo Giro Indice che raccoglie insieme al medio E giro finale Questo era il pen spin numero 2 Divertitevi a scuola È un ottimo passatempo Iscrivetevi se volete Lasciatemi un commento Con anche in consiglio Una prossima fioritura Ciao a tutti bellissimi Un bacione E ci vediamo in un prossimo video Adios Mi saluto E ci vediamo in un prossimo video